Sono stati presentati oggi a Confindustria collegamenti ferroviari nuovi e più veloci per gli spostamenti e per favorire il turismo in entrata e in uscita dalla Puglia verso Roma, Torino e Milano con Trenitalia. I numeri hanno già il segno positivo con 7 milioni di turisti stranieri che visitano il portale della Compagnia Italiana e sono oltre 100.000 le prenotazioni nel periodo natalizio e tra le novità anche il Freccialink in vista di Matera, capitale della cultura nel 2019. Il Bari Roma nei primi dieci giorni da dicembre ha avuto 5.000 prenotazioni, mentre il Frecciarossa che da Torino va a Milano e arriva a Lecce ha avuto 27.000 prenotazioni. Vi do un altro dato che è un dato di oggi, da e per la Puglia per il periodo di Natale ci sono 190.000 prenotazioni. Abbiamo trasportato quest'anno da e per la Puglia con i 60 collegamenti che facciamo ogni giorno sulla media e lunga percorrenza, quindi sulle Frecce, sugli intercity, da e verso la Puglia 4.200.000. I collegamenti avranno anche delle agevolazioni per le aziende iscritte a Confindustria con una carta Freccia Oro che consentirà di accedere ad una serie di agevolazioni nei Frecciaclub delle principali stazioni. Questa ottima attività che sta svolgendo Trenitalia, quella di collegare la Puglia al resto dell'Europa, hanno fatto una serie di attività che rendono i trasporti molto più veloci. Per noi imprenditori ovviamente essere collegati al resto dell'Italia e a parte dell'Europa per noi è fondamentale. Abbiamo tante aziende di eccellenza, aziende che stanno performando molto bene, abbiamo tante aziende che possono dare molto per lo sviluppo di questo territorio. Quindi questa è un'attività che noi vogliamo sicuramente diffondere ed è un'attività che Trenitalia sta facendo in maniera molto competente e molto puntuale. I segnali e i ritorni sono tanti, ovviamente a noi chiederemo sempre di più, ma volevamo far capire che la Puglia ha una chance di crescita che potrebbe trainare tutto il Paese.